ciao pupe allora stamattina siamo passate in edicola e abbiamo preso questi due giochi per le bimbe il ciccio bello amicicci to mia e invece per mia per asia hello kitty cappuccino ti piace asietta adesso li apriamo allora facciamo così mettiamo l'acquetta asietta allora qui c'è l'acquetta ti do una mano asietta mettiamo dentro vieni dai la mano tu guarda asia quello è tuo profuma profuma ed è anche morbido adesso apriamo il tuo per il tuo ci vuole la forbice ti lo taglio sopra qua qua così lo puoi aprire dall'alto fatto anche queste bustine per fare la pappa praticamente bisogna aprirle mio ci pensi tu versiamo il contenuto qua dentro ci aggiungiamo sei gocce d'acqua allora stiamo cercando di dar la pappa al ciccio bello metti la pappa al ciccio bello ok ti piace asia ti piace si mia ti piace bene dai sono contenta ciao 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 ciao